Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove The North Face Back TV Infinite 2 Future Light ovvero le scarpe per correre su fango e su neve di casa The North Face e adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito dalla suola di queste Infinite 2 qui troviamo una suola proprietaria di The North Face, la classica Surface Control una suola con dei tasselli alti 5 mm che devo dire mi ha stupito per il suo grip con questi tasselli così alti sul fango va veramente molto molto bene anche su neve molto bene devo dire poi che come tenuta su roccia, finché parliamo di roccia asciutta anche lì bene roccia bagnata dipende un attimo il tipo di roccia che troviamo però in generale devo dire davvero un'ottima tenuta l'unico aspetto su cui bisogna fare un po' attenzione è che è una suola abbastanza morbida se la si va ad utilizzare su dei terreni duri come possono essere delle strade di fondo valle come possono essere anche delle strade bianche tenderà a consumarsi un po' velocemente però vi assicuro che a livello di grip, fango e neve mi ha veramente stupito passando a parlare invece dell'intersuola di queste Infinite innanzitutto troviamo un differenziale di 6 mm con un'altezza sul tallone di 28 e 22 sull'avampiede nel particolare troviamo una suola in pebax a due densità che ha comunque un'ottima reattività devo dire che si può correre molto velocemente anche a 4-4.30 km senza nessun problema anche perché all'interno ha una piastra in TPU che le garantisce sia un'ottima spinta ma anche un'ottima stabilità sui terreni più tecnici dal punto di vista poi dell'ammortizzazione non è elevatissima perché comunque non la raggiungiamo i 30 mm neanche sul tallone però comunque una media distanza come gara ce la si può fare senza nessun problema ma di questo poi ne parliamo più avanti nel video in generale comunque devo dire un'intersuola abbastanza reattivo ci si può correre velocemente si riesce a davvero sfruttarle al meglio e anche dal punto di vista dell'intersuola devo dire che mi è piaciuta passiamo a parlare della tomaia della parte superiore di queste Infinite iniziando dal puntale qui troviamo un puntale che è mediamente strutturato nel senso che se ci prendiamo dentro sferando qualche roccetta, qualche radice non sentiamo male ma se ci tiriamo un calcio secco o una roccia il male lo sentiamo diciamo che se fosse stato un pochino più rigido l'avrei particolarmente apprezzato la cosa che invece ho apprezzato è che poi tutta la parte anteriore plastica che va a proteggere il puntale va fino alla metà dell'esopiede in modo tale da garantire anche una protezione alla tomaia la tomaia in compenso è realizzata con un materiale abbastanza resistente comunque all'interno troviamo la membrana feature light che non mi ha dato nessun problema dal punto di vista dell'impermeabilità e che mi è piaciuta molto anche per quanto riguarda la traspirabilità quindi in generale devo dire che poi complice insieme ai lacci comunque abbiamo una calzata veramente comoda una calzata che si stringe molto attorno al nostro piede e comunque una tomaia davvero ben costruita che durerà nel tempo parlando invece di tallone qui troviamo innanzitutto un comodo inserto sulla parte dell'intersuola che ci aiuta ad andare a scaricare il peso se corriamo di tallone una struttura nella parte bassa, nella parte più grigia realizzata con materiale abbastanza duro che le garantisce comunque un'ottima stabilità e poi pian piano che si sale il tallone va a destrutturarsi fino ad arrivare alla ghetta superiore che è veramente morbida appunto questa piccola ghetta ci aiuta a non fare entrare i detriti nel momento in cui andiamo a correre su magari dei sfasciumi o comunque magari su del fango ed evitare che possa entrare dalla parte superiore del piede per quanto riguarda invece linguetta e lacci una linguetta abbastanza classica svolge bene la propria funzione e poi complice i due inserti che sono stati messi a Leonard Face sul tallone sulla linguetta è anche semplice andare a calzare queste infinite e lacci devo dire anche loro fatti bene con una zigrinatura classica di The North Face che ne evita che si possano allentare per quanto riguarda la soletta questa proprietaria The North Face la si può estrarre se non vi dovesse piacere però comunque mi ci sono trovato bene andrei avanti a utilizzare quella data in dotazione a livello di spazio sull'avampiede non è una scarpa stretta sicuramente è una scarpa diciamo che un'avampiede abbastanza normale quindi se di The North Face la prendete sempre mezzo numero in più vi consiglio di prenderla anche su questa altrimenti davvero diciamo una calzata né troppo ampia ma né meno stretta ma che tipo di atleta consiglio queste infinite due future light io le consiglierei a un atleta medio esperto eviterei se siete degli atleti alle prime armi avere già una piastra in TPU bisogna comunque saperla un po' portare se siete delle persone che magari corrono già da un annetto in su quello può andare molto bene l'importante è davvero che non siate degli atleti veramente super principianti dove utilizzarle? come vi dicevo su terreni veramente molto morbidi fango, neve, tutto questo tipo di terreno va bene anche su roccia perché comunque è una scarpa che si distreggia molto bene anche sul tecnico però davvero il suo terreno ideale probabilmente è il fango e la neve e a livello di distanze si potrebbe fare siccome anche nelle gare di media distanza cioè una 50 km la si può utilizzare senza nessun problema sopra i 50 km ecco magari andrei a prendere una scarpa con intersuola un pochino più alto arriviamo dunque alle conclusioni ai prezzi di queste The North Face Infinite 2 Future Light vengono vendute da The North Face a 180 euro online le si trova anche a meno che dire una scarpa che mi ha veramente sorpreso una scarpa che quando la si mette addosso si parte e si corre senza nessun problema una scarpa comoda che se dovete utilizzarla in questo periodo invernale dove magari si trova tanto fango anche della neve anche a quote medie secondo me ci sta è davvero ottima considerato poi che comunque il suo prezzo o l'ala si trova sui 150-160 euro è decisamente inferiore ad altre scarpe appositamente studiate per la neve quindi sì, a me è piaciuta e ve la consiglio e detto ciò ragazzi la speranza sia stato esaurito e esaurito anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao